Mentre vi invitiamo a bere un buon bicchiere di birra, vi presentiamo Anita Ekberg e Fred Buscaglione. Quando il dritto di ziccago, Fredy B, fa raggiungere da Gastone su Pespera, che anche i duri che figura, fa rifarla conciatura, torturandoli col casco e i bigodi. On the rock! Divina! Ciao Fred, ti piace? Guarda un po' là. Oh no, quello no! Ho detto biondo platino! Oh no, 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 no! Allegra Puffa, glielo faremo rifare. L'ho portato un bel regalo, guarda là. Ecco. Oh Fred, no, sei impossibile. Sono sicuro che hai dimenticato la presa per il forno. Senti bambola, toviziata, coccolata, latte burro, centrale elettrica, eccetera, eccetera. Ma cosa vuoi ancora da me? Vuoi una medaglia per le Olimpiadi, Fred. Devi nuotare i cento metri in due secondi. Troppo facile. Lo so, hai giochi facili. Fammi vedere il solito giochetto per bambini scemi. Guarda un po' là. Va bene, questo sì che mi piace. Sicuro. Però ora facciamoci qualcosa di facile. Io sono uno sportino e mi faccio... Cosa a capo? Volevi dirvi questo? Una birra. Biondo platino. Giusto? Giusto. Non solo i più grandi campioni, ma tutti gli sportivi e gli appassionati di sport si ristorano con birra. La bevanda per tutte le stagioni. Ai monti, al mare, in città, soprattutto e dappertutto birra. Da soli o in compagnia si beve sempre birra. fresca, fresca, spumeggiante. Per favore un tavolo separato con tanti, tanti fiori. E della buona musica. Prego. Recoaro presenta I posteggiatori con Dario Poe e Franca Rana. Recoaro presenta I posteggiatori con Dario Poe e Franca Rana. Cameriere, mi tolga di mezzo questa chitarra e questo violino. E adesso cosa facciamo? Rinfreschiamoci le idee. Ma che idee? Rinfreschiamoci, ma rinfreschiamoci sul serio. Ma con che cosa? Con Recoaro. Recoaro. Rinfreschiamoci. Rinfreschiamoci.